Siamo con Damiano Tommasi, presidente IC, che è venuto a trovare il Verona. Prima domanda, che Verona hai trovato? È quello che ha voglia che inizi il campionato, perché sappiamo che il campionato dovrà fare il Verona, le aspettative, le tante aspettative, quindi è la voglia che cominci il più presto possibile. Poi se ci mettiamo anche all'inizio di un'avventura per l'allenatore, che ovviamente non fa che trasmettere questo messaggio ai suoi quotidianamente. Si è puntato tanto sull'intensità in questi primi allenamenti, ma si è puntato anche sul gruppo. Tu che hai avuto modo di annusare un po' le sensazioni che ci sono all'interno dello spogliatoio, che calciatore hai visto? Sicuramente sono consapevoli dell'annata dello scorso anno e sono consapevoli che soprattutto in certe situazioni se ne esce con la forza del gruppo. È un'occasione anche per l'allenatore di dare il suo contributo e quindi sta investendo molto in questa direzione. Sono giocatori che conoscono la piazza, la categoria, sono giocatori di qualità e quindi c'è tutto per far bene e si respira quest'aria di voglia di far bene. Per quanto riguarda l'AIC, continui la vostra attività di visitare ogni ritiro, anche per conoscere staff e calciatori di ogni singola squadra, sempre molto importante questo fattore? Sì, è un'occasione per stare un po' di più con le squadre, con i ragazzi, con le problematiche che si possono essere durante la stagione. È un momento anche per noi di farci conoscere, di far capire cosa vuol dire essere l'associazione e avere i propri rappresentanti che possono portare avanti le prerogative della categoria. Abbiamo iniziato da qualche giorno, anche perché con il mercato sempre aperto abbiamo ritardato un po' la partenza perché le squadre siano un po' più al completo.